Guardatevi intorno. Se c'è qualcuno qui dobbiamo trovarlo. Occhio a un'istranezza. Guardate dappertutto. Attenzione a un'attività. Controllate l'accesso. Sparategli! Indietro! È di qua! Lo vedo! È qui! Chi è questo? Porca puttana! Lì, laggiù! Attenzione! Uccidete quei trasporti! Ascolti! Lo vedete! Renata! Avanti! Di qua! In dietro! Mendoza, il brutto ha funzionato. Forza, piccola. Perde, il deposito è aperto. Ora ripuliamo questo posto. Indietro! Oh, cazzo. Guy? È vivo. Il giubbotto l'ha salvato. Ehi, resta con me. Sì, sono con te. Portiamolo fuori di qui. In piedi, in piedi. Forza, portalo al cavo. Di qua. Do se sapeva del nostro arrivo. Ti è andata male? Direi di sì. Sei duro da uccidere, interessante. Non abbiamo finito. Io non ho finito. Io ti credo, lo sai. Davvero? Semplifichiamo le cose. Sono Santa Rosata, non è lontano. Sì, so dov'è. Allora devi... venire a cercarmi. Maledizione! Nick, dobbiamo andarci. Boomer ti prenderà, va bene? Boomer! Triton sta arrivando. Sei accacciato. Ti sto dietro. Dove sono? Merda! Proviamo l'incontrollato il balcone. Presto! Eccoli! Tu, ferma dove sei! Via, via! Nick! Oh, merda! Porca troia! Ehi, attenzione! Kai! Sono solo precipitata da un palazzo! Avanzi, prendetelo! Mendoza! Dall'altra parte! Di qua! Molotov! Via da lì! Torca! Torca! De là! Lopetro, oui! Lì, attia! Lì, la giù! Brutto stronzo! Mink, dove cazzo sei? Arriviamo! Vomento! Stai, se non ce l'ha fatta? Sbrigatevi ad arrivare! Da merda! Lo vedo! Ma che cazzo... Prendetelo! Ma che cazzo... Che stai facendo? Vai alla barba! Allì! Cazzo, vada! Nick, ferma! Prendetelo! Questa è per te. Nick, andiamo! Forza, forza! Presto! Avanti, avanti, avanti! Dai! Dai! Devi tenere la carica! Non lo so! È messo molto male! Guido io! Tu aiuta Kai! Ehi! Ehi, ma dove vai? Andiamo a trovare Dove! Come fai a sapere dov'è? Me l'ha detto lui! Ok, come fai a sapere! Come fai a sapere! Ciao! Ifisi se dice! No! Se... Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Portatelo da un medico Cosa? Intendi in ospedale? Perché così filiamo tutte e due dritti in prigione? No, niente ospedale Cazzo Lo sai che è una trappola, vero? Certo che lo so Allora vattene Penso io addosso No Lo prenderemo insieme Sentite, dobbiamo portarlo da qualche parte ora Allora vai Ehi Questa non è la città di Bum Tu sai dove stanno certi medici? Lui no Perché lo fai? Per Dos non vale la pena Non possiamo scappare dopo tutto quello che abbiamo fatto Dos ci darà la caccia Non si fermerà Tra l'altro Per il colpaccio è andato male Sarà per la prossima volta Sì, amico La prossima volta Fai sempre casini, Mendoza Che ti aspettavi? Sì, amico